Siamo soddisfatti di questo premio, è una dimostrazione dei nostri sacrifici perché lavoriamo ogni giorno per scegliere i migliori prodotti, coltivare le migliori verdure della nostra azienda e scegliere quali trasformarle. La dispensa di Patrizia si basa fondamentalmente sulle verdure dell'azienda agricola Baraldo, l'azienda di famiglia che coltiva da 40 anni principalmente orticole. Da qui nel 2017 abbiamo scelto di trasformarle creando un laboratorio adatto con tutte le tecniche di innovazione ma mantenendo comunque una lavorazione artigianale. Io mi occupo di tutta la parte commerciale per quanto riguarda il brand e la dispensa di Patrizia. Il mio percorso semplicemente in azienda è stata la crescita prima nella parte del fresco sotto l'ala protettiva dei miei fratelli e poi al termine delle scuole superiori ho investito in questo brand e ho creato il mio laboratorio affiancato sempre dai miei fratelli e da mia mamma Patrizia appunto.